Massimo Sertori, perché al referendum di domenica votare sì? Beh, è un'opportunità importantissima per i Lombardi. Io da quando sono piccolo che sento parlare che la Lombardia è il motore di tutta l'Italia, dell'intera Italia, produce oltre il 25% del prodotto interno e lordo di tutta l'Italia. Oggi abbiamo un residuo fiscale di 54 miliardi, cioè di un miliardo alla settimana. Significa che i soldi che i Lombardi versano in tributi a Roma tornano indietro sotto forma di servizi in minor misura di un miliardo alla settimana. Quindi noi crediamo che la Lombardia oggi abbia dimostrato di avere la maturità per ottenere maggiore forza di autonomia e quindi utilizzare le risorse per svolgere le tante funzioni che ci sono. Per ottenere questa autonomia c'è bisogno di un referendum? Ma noi ci stiamo muovendo nel socco di quello che dice la Costituzione. La Costituzione in particolare in articolo 116, terzo comma, dice che appunto le regioni possono chiedere maggiori forme di autonomia e con esse ovviamente le risorse per poter svolgere queste funzioni. La trattativa col governo si poteva aprire anche senza referendum, peraltro cosa che è stata tentata due volte dalla regione Piemonte, dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto è ovviamente Roma e mi piace dire non Roma i partiti, ma Roma soprattutto la burocrazia romana ha sempre respinto queste richieste. È chiaro che con un referendum per quanto sia consuntivo più persone vanno a votare e votano sì, più la forza contrattuale che in questo caso avrà il governatore Maroni nei confronti della burocrazia romana sarà forte. Per cui è il motivo per il quale riteniamo questa sia un'occasione imperdibile per i Lombardi. Diamo forza a chi deve trattare la nostra autonomia e maggiori risorse che devono restare sui territori. La Lombardia rivendica la sua specialità, ma che ne sarà della solidarietà nazionale rispetto ad altre regioni? Ma intanto dicevo prima, il rischio fiscale è attualmente di 54 miliardi. Il governatore Maroni da questo punto di vista è stato molto chiaro. Lui ha detto che a noi sarebbe sufficiente che la metà di questo residuo fiscale restasse in Lombardia per le tante esigenze dei Lombardi. Oggi purtroppo non è così, ma soprattutto mi viene una riflessione. Il tema non è solo i soldi che vanno a Roma e non tornano indietro, perché se questi soldi fossero utilizzati bene e servissero per far crescere il paese e anche le altre regioni, quindi in uno spirito di solidarietà e quindi una crescita nazionale potrebbe anche andare bene. Purtroppo sappiamo che le cose non sono così. Spesso e volentieri questi soldi che noi diamo a Roma è solo un filtro, non arrivano sui territori e vengono spesi e dispersi in mille rivoli, ahimè, senza portare beneficio a nessun cittadino italiano. Per cui noi crediamo che come succede ad esempio a Trento e Bolzano, dove le popolazioni e i rappresentanti istituzionali dimostrano nei fatti di essere maturi per poter spendere le risorse generate sui territori, la Lombardia abbia queste condizioni. Ad esempio in Sicilia c'è una forma di autonomia, noi riteniamo riposta male e ne vediamo gli effetti. Cioè l'autonomia va bene, ma bisogna saperla usare. La Lombardia e i Lombardi io credo che siano maturi per farlo. Vicky Cimanga, perché non andare a votare al referendum di domenica? Perché riteniamo che è un referendum inutile e costoso, perché per avviare un dialogo con il governo per chiedere autonomia in determinati campi c'è già l'articolo 116 della Costituzione. Nel quesito del referendum in un oggetto non si fa riferimento, non si precisa quale tipo di autonomia si va a richiedere perciò e in più non comporterà nessun cambiamento all'indomani del voto. Più autonomia per la regione Lombardia è una cosa che voi condividete? Più autonomia bisogna capirsi in che campi, perché già nel quesito che dicevo è ambiguo e non è specificato. Noi pensiamo che sia necessaria un'autonomia verso gli enti sussidare infermiori alla regione, perché qua durante questi anni la regione, Lombardia per esempio, non ha, avendo la possibilità, non ha affatto più materie e competenze ai comuni e agli enti più piccoli. Cosa temete da un'eventuale vittoria del sì? No, noi non temiamo niente. Sappiamo che sicuramente la percentuale di votanti, di quelli che voteranno sì, sarà maggiore. La verità è che è un referendum che è stato convocato a sei mesi dalle elezioni regionali, non per caso, perché c'è una questione di leadership all'interno della Lega. Guarda caso è convocata dalla Lega di Zaia e Maroni che devono riscaldare i loro elettori della Lega degli anni di 20-30 anni fa e usano questo strumento strumentalmente alla vigilia dell'elezione quando potevano fare all'inizio del mandato e poi basta una semplice lettera per chiedere il confronto con lo Stato. In particolare, per la provincia di Sondrio, questo referendum in un senso o nell'altro cosa deve significare? Deve significare per noi niente, nel senso che c'è un tentativo di risvegliare gli istinti, però noi siamo favorevoli a una forma di autonomia, cioè non siamo contro il centralismo regionale, un'autonomia agli enti più inferiori al comune, alle realtà locali, ma nell'ambito della solidarietà nazionale e nell'ambito non egoistico come referendum, come autonomia. Temete di trovarvi soli o pochi rispetto a un consenso invece per il sì? No, noi siamo sicuri che la maggior parte dei Lombardi hanno capito, essendo costoso e inutile, non andranno a votare.